Sì? Signor Shelby, una lettera da New York, da parte di Winston Churchill. Dice che si trovava a New York, stava cenando con Charlie Chaplin e... Chaplin vi ha menzionato. Si trova a New York e non fa alcun riferimento al crollo. No, eppure ieri sera al bar il suo segretario particolare calcolava che avesse perso circa 75.000 sterline in un paio d'ore. E voi? Ne avete risentito, signor Shelby? Torno nel mio appartamento, Adam. Chiudi tu. Scusate, signor Shelby, avete un altro appuntamento. L'avete fissato voi la settimana scorsa. È un giornalista del Times. Prima scriveva sul Birmingham Mail, vi ha inviato delle domande. Avete acconsentito a incontrarlo? È qui fuori. Sì. Fallo entrare. Signor Shelby, il signor Levitt del London Times. Accomodatevi. Adam, puoi andare, chiudo io. Signor Shelby, vi ricordate di me? No. Una volta a Small Eat stavate bruciando alcune foto del re. Avete fatto molta strada da allora. Anche voi, signore, non siete stato da meno. Vi avevo inviato una lista di domande. Devo averla smarrita. Immagino avrete molto da fare. Ma ricordo che avevo trovato le vostre domande stimolanti. Oh, onorato. Scusate, sto... Ah, ci siamo. Sì, ah... Signor... Signor Shelby, Nel nostro paese non è consuetudine che la carta stampata si interessi della vita privata degli uomini politici. La vita privata? Ma in questi tempi moderni, soprattutto in America, i giornali hanno cominciato a... Come posso dire? Dunque, forse è meglio dire che i lettori hanno cominciato a interessarsi della vita degli uomini che li rappresentano. È giusto. In questi tempi moderni. Fino a poco fa sarebbe stato quantomeno poco elegante rivolgere a una figura pubblica, un gentiluomo, domande sulla sua sfera privata o sui suoi affari personali. No, no, no. Non è questo il caso. Non sono un gentiluomo. Signor Shelby, come ho detto nella mia lettera, io dieci anni fa scrivevo sul Birmingham Evening Mail. E naturalmente muovendomi in quella città non potevo ignorare il vostro nome e la vostra reputazione. E quando ho appreso che eravate stato eletto con i socialisti... Avete riflettuto sul fatto che un umile lavoratore è davvero in grado di cambiare la sua vita, di migliorare. Può incanalare le sue energie in nuove direzioni, sperimentare nuovi metodi e ambire. Ha risultati migliori. Vedere premiato il proprio talento. Ecco che cosa potete scrivere. La domanda che ho in serbo per voi, signor Shelby, è questa. La vostra conversione da libratore a militante socialista è avvenuta in maniera graduale oppure... ...siete stato folgorato sulla via di Damasco? Sì. Ora che sento la domanda, rammento molto bene la vostra lettera e rammento che avevate usato la parola a libratore. Voi... voi non eravate una libratore, signore? Sì. Ottenni la licenza nel 1919, scommesse ipiche, ma dal 23 sono più attivo nel settore manifatturiero, vendita ed esportazione di auto e vetture. E in seguito di Ginna... E in seguito tre nuovi istituti per bambini orfani. Scrivetelo solt'acquino, signor Levitt. Ho ancora una domanda, signor Shelby. A Birmingham, all'epoca in cui ero lì, c'era un maggiore, Campbell. Fu trovato morto. Venne accusato un membro della vostra famiglia. Rispondete a questo. Rispondete a questo. Il giornale Tori per cui scrivete, di cosa ha più paura? Dell'evoluzione o della rivoluzione? E quando accade che un uomo della classe operaia come me si alza dai banchi della Camera dei Comuni in difesa della giustizia sociale, cosa vedete di così spaventoso da tentare di infangare il mio nome? Io sto parlando di eventi specifici e comprovati. E' un ricordo. Con i quali non ho collegamenti diretti. E in seguito ai quali nessuno di noi è mai stato condannato. Sì, sì, ora... Ora non solo ricordo la vostra lettera. E ricordo anche il momento in cui ho chiesto a mio collega di condurre qualche ricerca. Scusate un momento. Ecco qui. Ah, Michael Leavitt. Corretto? Sì. Sì? Giornalista. Non sposato. Domiciliato e made available. Un appartamento di fronte alla stazione della metropolitana. Non sposato, è sottolineato. Al signor Leavitt piace passeggiare nel parco, talvolta da solo, talvolta non proprio da solo, ma in compagnia di altri uomini. Ah, talvolta passeggia in compagnia di uomini. Sono un uomo all'antica, Michael. Penso che la vita privata debba rimanere privata. Non sempre moderno è sinonimo di buono. Puoi scrivere questo sul tuo blocchetto del cazzo. Grazie. Grazie.